Senti come suona, senti, è uno strazio, ma fa veramente, attenda merda, ma fa veramente schifo, fa veramente cagare. Maestro? Maestro Piapischi siamo noi, i suoi angeli custodi. Maestro, le opa a opa, ammazza quanta roba. Tose, non potete stare qui, dovete venire via, me lo benedette, dovete tutte quante venire via. Il maestro Porciopar, ma che mi fa l'orgia? Amici, è solo una piccola festa per me, care amiche ballerine di Brasilia. Ma non le ballerine di Brasilia, lei ci vuole far passare un guaio, andiamo su, metta via lo strumento. Fabio, vieni un attimo, te capi il vegetchi, guaranà, guaranà, pappa reali, ginseng, il viagra, il viagra, il tè. Il tè? Ma che tè? Ma questo non è tè, marihuana. Marihuana. Hai capito il maestro? Questa è meglio farla sparire. Maestro, ma che ci fa maestro? Lei questi concerti se li deve dimenticare. E si ricordi che ho 16 valvole. E se si grippa il motore cosa facciamo? Ho voi ragione, ma io triste stasera. Io parto. Voi prendere piccolo goccietto e poi tutti via. Ma non poter bere goccietto, maestro Priap. Noi essere in servizio, siamo in servizio. E no, è non poter bere. Solo piccolo goccio. Mi dispiace, ma non possiamo accettare piccolo goccio. Ragazze, date piccolo goccio ai miei amici. No, 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 io non puoi di bere. No, non puoi di bere o streghetta. Fa sto intervizio, ciò che deteste. Ah, capa tosta. Tosta. Bella tosta. E dammi sto piccolo goccio che mi c'è bagnato le labbra. Tu adesso mi vedi questo copricapo, ma io sono tenente. Però che ce devo fare? Io sto pro, insomma, a samba. Cambio. Come ti chiama, mucciaccia? Bella mucciaccia. Paolo. Come me? Ma non sarei mica un uomo, eh? No, io sono travestito. Come il caimano. Cambio. Ma che te frega. Samba da mignottera. Samba da mignottera. Samba da mignottera. La 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 la. Ella. Andiamo via, sberta. Ragazzi, ragazzi. E' successo. Dove andate? Dove andate? Che palla, mucciaccia. Vedete, qua. Restate qua. Andate via perché l'hai offesa. Io l'ho offesa? Ma scusa, volevo vedere te. Io ce l'ho dietro un caimano bello carico. Perché rovino una così bella festa? Per che cosa? Per un dettaglio. Ah, chiamalo dettaglio. Chiamalo dettaglio. Andiamo a salutare Pirapischi e andiamo. Maestro. Maestro. Io e il maresciallo volevamo salutarla. Noi andremo. e volevamo ringraziarlo per la bellissima serata musicale che ci ha fatto chiedere. Dormi. Dormi. Ma dai, facciamolo dormire, no? È vero. Dormi come un bambino. Un bel vecetto. Ma come ti amo? Siamo riposati. Maestro, il telefono. Ma cosa facciamo? Spondiamo noi, così continuiamo a dormire. Dai, spondiamo. Pronto? Direttrice. Sono il tenente Leone. Sì, sono una camera di Priapinski per controllare. Come d'accordo non lo perdiamo d'occhio un momento. Come? Dobbiamo portarlo ai raggi uva. No, 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 no. Aspetta. Allora d'accordo. Sì. Ma come vuole che stia? Sta benissimo, è... È morto! È morto. Come è morto? No, dicevo, lo porto personalmente a prendere l'ultima dentarella a rivederla. Ma come è morto? È morto! Ma che facciamo adesso? Ma è qualcosa? Maestro, non faccio scherzo. Faccio le espressioni artificiali. Le espressioni artificiali, aspetta, eh. Non riprende. Non riprende! Ma perché? Ma cosa ho sentito il fastidio? Cosa sarà? Ma che hai fatto? Ma che ne so io? Ma che è sto coso? Porca miseria, ecco cos'è il fastidio. Eh, non lo so. Sarà l'archetto. Ne è l'archetto.